allora porco dio mettiamo le cose in chiaro io ho scopato almeno un centinaio ho scopato nel senso di scopare almeno un centinaio tra le meglio più fighe del mondo ci sono i video che lo testimoniano moltissimi di questi video sono mai stati pubblicati ma sono mettiamo le cose be attention please I make poor video with the most beautiful girls in the world and remember porco dio remember sono io quello che decide sono io che fa che decide cosa fare se voglio se voglio porco dio remember porco dio remember conta solo it's important only what I want porco dio di video lo faccio perché piace non perché piace neanche perché lo voglio fare io perché scomando io basta stop rimane il fatto che io l'ho a mille fighe planetare ma vere fighe famose fighe vere porco dio adesso vado al mcdonald e il via cazzo viagra ne posso mandare anche dieci se devo scoparne dieci porco dio è normale porco dio ciao